Deteneva diversi tipi di droga, per questo un 38enne è stato arrestato dai carabinieri. I militari della compagnia di Cosenza, dopo aver effettuato una perquisizione personale e domiciliare, hanno ritrovato abilmente occultati all'interno dell'abitazione dell'uomo, nel centro storico di Cosenza, circa 80 kg di marijuana suddivisi in 15 involucri di plastica termosaldati e circa 80 g di hashish suddivisi in due involucri, unitamente ad un bilancino di precisione e a del materiale per il confezionamento. Su disposizione del PM di turno della Procura della Repubblica di Cosenza, l'uomo è stato associato presso la casa circondariale del capoluogo Bruzio.